Ma non mi aspettavo, ti ho imbrogliato Sandrone, non mi hai voluto lì a mangiare, io sono qua al Nail Bar Beauty Lounge, una roba che manco mi aspettavo, con delle sorprese che te non ne hai un'idea, con uno spritz come puoi vedere, però c'ho anche una birretta, insomma Claudio Stiamo facendo proprio un'education, ma sono finti sono, secondo te, non sono veri, senti ma intanto tu mi hai voluto tirar via della Francesca lì, intanto io qua ho delle sorprese che te non hai idea, perché voi dici due punti persi, Parma femminile ieri, tre punti guadagnati con doppietta di Boselli e un euro goal di Arrigoni, anzi adesso devo chiamare Gigi e dirgli che magari se qua ha qualche problema davanti chiamiamo Arrigoni Fai una cosa, subito Boselli e Arrigoni Boselli e Arrigoni venite qui subito, immediatamente, perché poi sembra che dico delle balle, vieni qua, allora, guarda qua c'è Boselli, le vecchie imbrassi Eh? Quanti anni ha, vent'era? Eh no, 18 18 anni, Sandro, te non te li ricordi neanche più quando ce li avete Eh? Eh? Boselli di nome, scusa Gioara Scusa? Gioara Gioara, eh anche un nome così, da attaccante vero? Sei attaccante? Yes, sì, sì No, ha fatto due gol ma gioca in porca Ah, Sandro Oh, bello, non facciamo solo la posizione Il quattro comincia il campionato Eh sì Sarai davanti anche lì a giocare? Lo spero Eh, ieri com'è andata? Bene, bene, abbiamo vinto e sono contenta Va bene, adesso convochiamo Arrigoni e cominciamo Oh, Arrigoni ha fatto un euro goal davvero, vieni qua Arrigoni Cioè, l'è detta di tutti, eh? All'età no Ah, ascolta, però c'è una cosa, Arrigoni non gli devi chiedere l'età Ma, dica Come? Samantha Allora, Samantha, iscrivici, fai la radiatronica come se fosse in chiesa Di cosa? Del tuo goal Del tuo goal? Vai, ma so Ma, spinta del portiere e al volo Chi è che ha tirato? Il suo Tu hai tirato le spinte e ritirato tu? Sì, lo faccio tutto io Allora la faccio io Ma, aspetta, facciamo dire la prima di Dali che era la prima di Dali Ah, Romeo Azzani era a vederla Esatto Allora, cadottiere al volo Eh, colpita del portiere All'incrocio dei fagli Beh, forse è pomodoro Sì Romeo è stato un bel goal No, perché di Romeo io mi fido molto perché lo seguo da anni No, una cosa, io non vedo, però volevo fare una domanda a Gabriele Pin, lì in studio Eh, Gabriele, io mi ricordo quando, cioè, io mi ricordo Gandini, Murelli, Davin, Pioli, Panizza, Aselli, Mariani, Pin, Ascani, Salsano, Barbuti Ok, quindi ero a Sanremo Ma tu vieni qua, tu che sei, che sei, insomma ti vedo esteticamente sempre guai, vieni qui anche tu a fare il trattamento beauty farm Sì, non ti dico io esattamente Il tuo non lo diciamo perché ormai è scontato All'un anno e mezzo per avere un minimo di Esattamente, è direttamente proporzionale alla tua, quando vai tu dal dietologo Esatto Eh, non vuoi, tu dove stai? No, Samantha, non ridere alle tattute di No, no Se no ti chiediamo l'età, eh, Samantha Allora, grazie Altezza e età Benissimo Cominciamo a parlare Ieri Gabriele Pin ha visto la partita, ci sono tre tetti Grazie